Testa a coda puro nel girone C di Serie C. Al Bonolis di Teramo si giocherà il match fra Monterosi-Tuscia e Lavellino. La penultima della classe cerca l'impresa contro gli Irpini, terzi in graduatoria. Entrambe sono riduci da un weekend positivo. Il Monterosi ha battuto la doce cerignola in trasferta, lasciando al Brindisi l'ultimo gradino del girone C. Lavellino è invece uscito vittorioso dal confronto interno contro la Casertana. All'appuntamento contro i Lupi, la squadra di Cristiano Scazzola, terzo allenatore sulla panchina della formazione della Tuscia, fin qui ha conquistato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Domenica il Monterosi dovrà fare i conti con le assenze di Piroli, parlati e forte. Doppia idea per il modulo da schierare dal 3-5-2 al 3-4-3, quest'ultimo stuzzica l'idea del trainer Scazzola. Rigon tra i pali, verde e benè e sin in difesa. Gavioli e Crivello sulle fasce con gore e scarsella a centrocampo. Attacco formato da Fantacci, Eusebi e Vano. Quest'ultimo pericolo numero uno per le difese con i suoi sette gol, soprattutto decisivo di testa. Il Monterosi, nonostante la posizione in classifica, si è dimostrata fin qui una squadra viva da prendere con le molle.